Eccoci qua, la nostra prima intervista abbiamo il piacere di farla, è veramente il piacere perché è indaffaratissima, quindi per noi averla è anche veramente un grande onore. Elisa Venturini che è vicepresidente dell'Anci del Veneto e ho questa prima qualifica perché ci interesserà parecchio per entrare a dentro determinati meccanismi di stanziamento di fondi, di soldini quindi che i comuni avranno o non avranno. Adesso cercheremo di capire meglio cosa è successo e quindi far chiarezza anche a voi cittadini che siete direttamente coinvolti e poi il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale e quindi consigliere regionale. E lì ci sono diverse competenze che ci sono e quindi affronteremo altre questioni, quella dello sport in generale, dell'importanza degli strumenti che ci sono sia per chi deve fare lo sport, per chi invece ci vive praticamente come attività, le scuole quindi più giovani, le difficoltà anche psicologiche, giovani e non giovani perché giustamente ci sono tante persone anche in una certa età inziane che sollecitano interventi per dare un aiuto e un supporto a chi va al lavoro e poi c'è la questione di trasporti pubblici. Altra tremenda situazione, insomma sarebbero tante le questioni, vediamo cosa riusciamo a fare. In primis questo PNRR ha stanziato un quantitativo di fondi, di finanziamenti che sembra che l'80% sia stato forse anche di più al sud Italia. Lì è sorta una bagarre, una serie di contestazioni ma di fatto cosa sta succedendo? Poi sembra che la cosa si sia recuperata con dei soldi che in finanziaria si potevano in qualche modo riservare per i comuni del nord Italia però resta un po' la mano in bocca. Come ci dia la sua chiave di lettura e che cosa è successo? Intanto grazie per l'invito e ben ritrovati, è sempre un piacere essere qui con voi. Come rappresentante dei comuni del Veneto, quindi come rappresentante di Anci è da un po' di tempo che stiamo battagliando per riuscire a recuperare un po' di risorse anche per il Veneto perché cosa succede? Che all'inizio dell'anno scorso, del 2021, viene destinato un'ingente quantità di denaro per i comuni con il fine della rigenerazione urbanistica, ambientale. A prescindere dal PNRR? A prescindere dal PNRR, parliamo di 3,4 miliardi. In quell'occasione era stato quindi fissato, stabilito un bando con dei criteri e tra i quali c'era l'assegnazione ai comuni con più di 15 mila abitanti e era già stato introdotto il criterio della vulnerabilità sociale e materiale. Perché sostanzialmente sennò sarebbero stati troppi comuni che avrebbero potuto partecipare? Perché in qualche maniera in questo bando appunto destinato alla rigenerazione si volevano cercare di indirizzare le risorse, evidentemente questo era il pensiero a livello statale, ai comuni più grandi, quindi con più di 15 mila abitanti, considerando che tre quarti dei comuni sono al di sotto di 15 mila abitanti, quindi se voleva in qualche maniera agevolare i comuni più grandi e magari anche andare incontro a quelle situazioni di maggiore fragilità da un punto di vista sociale ed economico, ecco perché il principio della vulnerabilità. Noi di Anciveneto ci rendiamo conto che con questo bando appunto buona parte dei comuni veneti rimangono fuori, soprattutto per quanto riguarda il numero dei cittadini, cioè sono pochi comuni in realtà con più di 15 mila abitanti, quindi facciamo un primo ricorso al capo dello Stato e stiamo ancora in attesa di vedere che tipo di risposta ci verrà data. Nel frattempo questo denaro di questo bando viene inquadrato nell'ambito del bilancio dello Stato come piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi questi beni, questi denari vengono trasformati in quei famosi denari che dovrebbero essere appunto destinati ai comuni nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè dei fondi europei. In questo caso ci rendiamo conto lì veramente che cosa è significato il criterio della vulnerabilità sociale e materiale, perché si sono iniziate a fare le proiezioni e quindi si è capito veramente che cosa significava applicare questo criterio. All'inizio evidentemente non si sono fatte delle verifiche per vedere che cosa significava applicarlo, quando lo si è capito si è visto che buona parte dei comuni veneti, non solo quelli con al di sotto i 15 mila abitanti erano esclusi, ma anche i comuni più grandi, perché la maggior parte delle risorse vanno al sud, perché con questo criterio della vulnerabilità è chiaro che le realtà più povere del nostro paese hanno la possibilità di accedere maggiormente a questi fondi. Ma sono fondi non di poco conto, perché stiamo parlando di cifre importanti, mentre quelle che inizialmente erano state stanziate erano per sopperire delle esigenze lecitamente ammissibili, poi col PNRR si sono aggiunti dei finanziamenti notevoli, insomma, molto importanti, che potrebbero fare un po' la differenza. Sì, tanti progetti, parliamo di numeri importanti, centinaia di comuni del Veneto e della Lombardia sono rimasti esclusi, proprio per l'applicazione del criterio della vulnerabilità sociale e materiale. Per cui come Anci Veneto, quindi come Associazione dei Comuni del Veneto, con il presidente nostro Mario Conte e con tutti gli amministratori, a prescindere dal colore politico, si è incominciato a fare pressione a livello nazionale, perché in qualche maniera ci fosse una maggiore equità territoriale. E i parlamentari, anche dei vari colori politici, sono intervenuti per dare un supporto a questa istanza. Ora, a seguito delle interrogazioni che sono state presentate, il ministro, la ministra Lamorgese è intervenuta dicendo che si recuperaranno circa 900 milioni per cercare di dare copertura a tutti questi progetti, queste progettualità che i comuni del Veneto e della Lombardia hanno presentato. Quindi ora siamo in attesa di vedere se effettivamente riusciranno a recuperare a bilancio queste risorse, come ci hanno promesso, per garantire la copertura ai comuni. Questo per quanto riguarda i comuni con più di 15 mila abitanti. Resta l'altra questione che appunto noi avevamo posto e che è ancora sul campo, che è quella di comuni con meno di 15 mila abitanti. Allora, sembrerebbe che anche in questo caso il governo riesca a stanziare 300 milioni per tutta Italia. è ancora un po' poco e comunque se viene applicato anche in questo caso il criterio della vulnerabilità sociale e ambientale, siamo sempre lì. Ecco perché all'inizio sembrava che mancassero i progetti e che quindi tanti comuni non fossero stati preparati ad affrontare questa cosa, non avessero preparato i progetti credibili, accettabili, congrui per poter essere approvati. Ma allora, c'è un problema di fondo, ma lo spiego magari in seconda battuta. Sicuramente riuscire ad avere subito delle progettualità, magari anche complesse, che riescono nel giro di qualche mese a garantire poi l'accesso a fondi, non è così semplice per i comuni. Però devo dire che i comuni del Veneto sono dei comuni che bene o male, soprattutto sto pensando quelli naturalmente più strutturati, hanno la possibilità di presentare delle progettualità. Tanto è vero che siamo rimasti esclusi e stiamo chiedendo e abbiamo chiesto di poter essere inseriti e il governo appunto ha garantito questi 900 milioni. Dicevo, la vera questione è che tanti miliardi, perché parliamo in termini di miliardi, andranno a parti del nostro territorio in Italia, dove ci sono delle grandi difficoltà. Cioè noi abbiamo dei mali attavici, delle carenze croniche legate al poco personale piuttosto che alla poca progettualità, che il rischio è che noi abbiamo delle regioni che riceveranno tanti soldi e io non so quanti comuni saranno in grado di spendere questi soldi. Il problema che cos'è? Che poi noi facciamo una brutta figura con Italia a livello europeo, se non siamo in grado di spendere questo denaro. E siccome i comuni, gli stati soprattutto del nord Europa ci stanno guardando, non è che un malagestio del denaro che proviene dall'Europa sia poi per il futuro una bella condizione per noi. Perché ricordiamoci che tra due anni, quando verranno ridefiniti i principi fiscali, ritornerà il patto di stabilità. Allora vi ricordate che fino a qualche anno fa noi avevamo questo patto di stabilità famigerato che non permetteva ai comuni di spendere niente, non potevamo contrarre mutui, non potevamo avere spese extra, dovevamo stare attentissimi ad ogni cosa, non potevamo assumere. Ecco, noi da quella situazione là, in questi ultimi anni, siamo un po' usciti, i comuni sono un po' più liberi e hanno un po' più di disponibilità economica. Però io non vorrei che tra due anni, proprio sulla scorta di come gestiamo questo denaro europeo, ritornino dei vincoli ancora più stringenti. Ma questi progetti dovrebbero essere già pronti sostanzialmente? Perché poi abbiamo dei termini molto stretti per andare anche a fare gli investimenti? Sì, allora, come dicevo, sicuramente ci vuole una grande capacità progettuale e anche di realizzazione e di esecuzione degli interventi. Perché il termine ultimo è il 2026. Cioè noi per il 2026 dobbiamo aver già progettato, avere la progettazione, avere la fase preliminare, la fase definitiva, quella esecutiva, andare in appalto, andare a realizzare l'intervento sperando che non ci siano ricorsi. Con i nostri tempi biblici della burocrazia e lì c'è l'altro problema che non è stato ancora risolto. Anche lì, in teoria il governo si è impegnato con una serie di riforme, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza, proprio per rientrare esattamente in quelle regole del gioco che dovrebbero permettere a tutti di avere più facilità nel concludere una serie di operazioni. Sto pensando proprio quelle finalizzate ad ottenere i soldi dall'Europa. Per spiegare bene ai cittadini, perché poi tutto è chiaro per chi c'è dentro, non per chi è dall'altra parte, che tipo di progetti potrebbero essere finanziati con questi soldi? Quindi perché dovrebbero essere coinvolti anche direttamente la cittadinanza, al di là di chi deve porre realizzarli, l'amministrazione, eccetera. Quindi che giovamento porterebbero sostanzialmente? Sono progettualità legate alla rigenerazione e quindi noi pensiamo a tutte quelle realtà che noi abbiamo nei nostri comuni che meritano di essere riqualificate. Quanti centri di paese, oppure aree, oppure periferie, o zone che richiedono di essere riqualificate, quanti edifici ci sono magari in condizioni fattiscenti, magari anche edifici pubblici? Quanto si può destinare al decoro per rendere migliori gli ambienti in cui noi viviamo in termini proprio urbanistici e territoriali? Giocando anche sulla sicurezza, tra l'altro. Senza ombre di dubbio. E poi ricordiamoci che i filoni principali lungo i quali si snoda l'azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono la digitalizzazione e la transizione ecologica. Quindi le varie operazioni che vengono fatte devono sempre tenere conto di questi aspetti per poter accedere comunque al denaro pubblico. Perché poi c'è un'altra problematica che sta benedetta, transizione ecologica. Dico benedetta perché sta diventando, è un aspetto positivo, però sta diventando anche un incubo, un boomerang. Nel senso che ci costerà tantissimo. Perché quando diventa poi, hai dei termini da rispettare, se non lo fai, comunque lo Stato deve tirare fuori questi soldi. E quindi questa potrebbe essere un'occasione per approfittarne di quello che viene dato. Perché poi bisogna adeguarsi in qualche modo. Ha dei costi rilevanti anche. E soprattutto dobbiamo renderci conto che entriamo in una fase di cambiamento e di transizione dove non è detto che tutto sia indolore. Perché quando noi chiediamo ad un paese, ad esempio, di garantire un tot di energia da fonti rinnovabili, e quindi parliamo di eolico piuttosto che fotovoltaico, piuttosto che idrogeno, si è incominciato a parlare di nucleare. Dobbiamo incominciare a fare dei ragionamenti su questo. Perché questo comporterà magari anche in termini di posti di lavoro un cambiamento. I posti di lavoro legati a un certo tipo di economia, ad un certo tipo di società, non saranno quelli con una società che ha un'altra impostazione, con altre magari fonti di energia e con un'altra impostazione. Quindi noi dobbiamo cambiare anche parametri in termini proprio di impostazione della nostra società e del nostro lavoro. Adesso, con questo correttivo che non è ancora stato attuato, però un po' di soldi sono stati 900 milioni, si è tirati fuori dal... Così c'è stato promesso. Ah, infatti, non è ancora stato promesso. Quindi di fatto ancora siamo in attesa dei risultati? Di fatto siamo in attesa che questi fondi vengano stanziati. C'è stato detto, quindi c'è stato promesso, è stato dichiarato in Parlamento da parte di un ministro. Adesso aspettiamo i fatti. È stato un errore italiano, errore, nessuna leggerezza del nostro paese, quindi c'è stata una votazione al momento giusto in cui si poteva intervenire. Cosa è successo? Tutti i paesi sono coinvolti in questo, con questi parametri che hanno limitato gli interventi a certe aree, anziché altre. Allora, è stato introdotto questo parametro, come dicevo, della vulnerabilità sociale e materiale, che significa sostanzialmente che i territori che sono più poveri, che hanno meno possibilità, a questi deve essere riconosciuta una chance in più, quindi più possibilità di ricevere questo denaro e magari anche in quantità maggiore. E' evidente che ci sta che alcune parti del nostro paese, sto pensando anche al Meridione, che da un punto di vista infrastrutturale presenta un gap importante, è necessario intervenire per creare quelle infrastrutture che permettano all'economia di correre, perché noi non possiamo pensare di portare avanti una politica di natura assistenzialistica. Con il debito che abbiamo e che stiamo maturando, possiamo permetterci che alcune parti del nostro paese non abbiano un'economia che vada avanti, assolutamente. Quindi devono essere create le condizioni per la crescita. Dopodiché, questo non significa che altre parti però del territorio non debbano ricevere nulla, come il rischio che si sta correndo adesso per il Veneto e per la Lombardia, ma parliamo del Veneto in particolare. Quindi questo è quello che si sta dicendo. Quindi, indubbiamente, introdurre dei parametri che in qualche maniera vadano a colmare quelle differenze strutturali che ci sono nel nostro paese e ci sta, ma che ci siano delle zone che vengono completamente escluse da questi fondi, no. Assolutamente no. Prima di chiudere questo argomento, poi dopo la pubblicità passiamo ad un altro, è stato puntato il dito contro l'Anci nazionale. L'Anci nazionale ha detto io non ero comunque partecipe alle decisioni che si sono svolte sostanzialmente, e quindi a livello governativo, è così? Allora, quando si è discusso di questo denaro, del bando, dei criteri che venivano applicati, dell'introduzione del criterio dei 15 mila abitanti in su, del criterio della vulnerabilità, l'Anci era presente, l'Anci nazionale, quindi l'Associazione dei Comuni con i propri rappresentanti nazionali. era presente all'incontro che c'è stato tra Anci e conferenza Stato-Città, e interloquisce con i rappresentanti del governo. Anche i ministeri, il ministero delle infrastrutture, il ministero delle finanze e dell'economia, il ministero dell'interno, erano a conoscenza di questi criteri. E nei ministeri ci sono ministri e sottosegretari, che sono di tutti i partiti. Quindi tutti erano a conoscenza. È che, a mio avviso, quello che non ci si è resi conto, quello che non è stato fatto, è fare quelle benedette proiezioni per vedere, applicando quel criterio, in statta della vulnerabilità, che risultati, che ricadute avrebbe avuto poi sul territorio. Forse c'è stata, non dico una leggerezza, ma non c'era esattamente la consapevolezza. Dove si andava in conto. Di che cosa comportava applicare quel criterio? Perché evidentemente non si erano fatte le verifiche, le proiezioni in termini proprio di dati numerici a livello territoriale. Chiarissimo. E noi speriamo, incrociamo le dita, non c'è altro che sperare. Ma noi facciamo le nostre battaglie, come sempre. No, no, ma perché se non si fanno, non si ottiene nulla. Se si sta zitti, come poteva succedere qualche anno addietro, perché anni addietro succedeva questo, che chinavamo il capo rassegnati, e le cose non vanno bene. Allora, pubblicità a pochi secondi, poi ritorniamo insieme, affrontiamo altre questioni.